salva tutti i ragazzi guardate qua nuovo brawl stars allora ragazzi sto risparmiando tre casse moltissime sono oggi insieme a mio fratello riccardo sempre videocamera 2 sempre come al solito ci faremo tre modalità e prendiamo il gettone per esempio food brawl sopravviene se domino perché se io faccio queste con la nave laggo dominio non l'ho provata si ha cambiato pure quello riccardo la vista però di sicuro andrea vabbè facciamo io con un genio comunque ragazzi è uscito mister p guardate una cosa io quattro mega casse ma io questo qua bari del raviolone ma lo sciopro non ho gemma che ridere iniziamo dal dominio non mi interessa inizia andare sul dominio vai proviamola io non l'ho mai fatta vediamo che cos'è dominio no io forse un po spero che non largo ti prego il nuovo da lì non mi far laggare di entrare in questa cosa penso mi hanno una dice ora due ha capito dobbiamo riceverne più di loro righi dobbiamo stare là dentro più di loro e anche più di loro dobbiamo essere ora siamo in parità perché ci sono loro vai ti faccio di andare in parità vabbè ma hanno dei brawler roppo forti questo è perso il 100 per 100 ormai guarda sono fintonisti qua righi tu ti devi mettere a misa brawler da lontano io ho una tattica che non ci facciamo vedere ne hanno 9 che si arriva a 10 no è che se non trovi giusti è difficile sempre noi abbiamo messo brawler non sapendo brutti li abbiamo messo per esempio il genio che non me la metterei se sapessi se io sapevo che era così non l'avrei messo righi rimane qua dentro dobbiamo riuscire a batterle abbatterli loro erano 10 noi dobbiamo batterli ne abbiamo due noi che bello erano loro 11 erano di più due gli uno più forti erano bombardato con tre colpi non li vincere ormai doppi punti e perchè non sapevamo cosa era la modalità rimani dentro rimani dentro vai in diagonale l'abbiamo perso e va bene bisogna muovere e perchè non sapevamo cosa era e lo sapevamo cambiamoci i brawler bella idea questa di sicuro meglio delle idee precedenti non è io mi posso mettere un momento un momento non c'è niente brawler che non perdo troppe coppe ma per esempio lei troppe poppe ma che sto dicendo troppe coppe scusate un secondo eh a me questa me la cassa non me la vede data ehm vabbè ora ne c'è di qui ti fai sbloccare dai si però facciamoci per sbagliare ieri non ti mettere non ti mettere se lo stessi con stecca venni uno di questi beh anche dove vincere almeno una di queste poi dobbiamo fare una footbrawl e poi facciamo soltanto sopravvivenza Oppure cambiamo poi decidiamo Allora io sono MZ E ancora vinciamo Allora però là c'è una Penny Siamo morti Uh bravi Siamo uno Sì Sto esultando per uno ragazzi Ok due dai Ok bravo Quando vedi troppo pericolo Rimaniamo qua nascosti perché almeno Non va avanti Rimani in parità No maledetta Volevo uccidermi Ma io però non ho il vantaggio E' in parità Bravo che è scappato però No sto morto Uh però l'ho ucciso Vabbè non ti preoccupare perché quella là Tu hai la bolla perciò Vieni in parità Vieni aiutami E' difficile vai lì Se l'è da dentro è difficile Perché tutti ti andranno Dai Tenete Vai di un tiri Bravo entraci Tre Vai rimaniamo dentro Mi metto io più avanti Guarda che faccio qua Guarda come faccio il devasto C'è C'è Siete qua Dai io che stiamo vincendo Cinque Tra quattro Allora Righi dobbiamo resistere altri quattro secondi Tra quattro secondi Perché guarda Eh ci sono i doppi punti ora Resisti I doppi punti Sì Dobbiamo correre Corri 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 E li possono vincere loro Appena arrivi facci subito Di ulti di ulti di ulti Sono loro hanno vinto Hanno vinto Hanno vinto Ah e noi dovremmo consumare tutti i gettoni Siamo a 7 minuti Ne abbiamo consumi solo 20 Allora noi qui spezzeremo il video C'era di dire in due parti No no Ora non vale però Se tutti fermi Siamo E' carino quando sto fermo la Così io lo prendo per benino Righi piano Allora primo punto nostro Pure secondo Righi arriva al terzo Terzo Attenzione Non vi fate prendere Che fine ha fatto la soul Scusate Non mi ha massato Oh si E siamo a 4 punti E vabbè quanti punti facciamo Guardate come blocco quel prank Non è vero Non lo prendete bloccato No 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 Nessun Scusate Oh si E' bloccato noi Dai viste ce la facciamo Viste che la facciamo Viste che la facciamo Lui Chi è sta qui ancora ma non è brava sopra si è preso marie l'esplorato da più punti a partire da ora che ci stiamo vendendo ai doppi punti rigenerare finché potete attenzione gli userà la super ancora mai abbiamo vinto 17 5 siamo il migliore guardiamoci a pocio che c'è dentro il telefono che mi viene dal seta oddio mi sono buggato il tablet aprile alla fine del video no ma che capperetto faccio pure io vai mi sto per mettere mz fute brawler io non so prendere la palla l'unico vero problema ora hai visto che c'è un colpo di sinistra la palla hai visto che quando ti hanno messo più vicino alla palla oh che carina è carino un colpo ci manca un colpo e mori hai visto che l'hanno aggiornato che l'hanno messo più vicino mi date una mano grazie che l'hanno messo più vicino alla palla guardate qua madonna ho un po' spaccato l'intermezzo un per mezzo mi ha ritenuto ve l'ho allontanata vabbè l'ho allontanata almeno imparate imparate l'italiano con anche tua mamma Now No fia tà 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 il vi vedo sì, vedo sì, vedo sì, ok? Dobbiamo riuscire a non fare punto. Vai, non puoi dire. Aiuto, righi, aiuto. Aiuto. Ti provo ad aiutare. Vedete? Ti pare un po' mappi. Attenzione. Chi è qua? No, no, qua è. Ander, aiuto. Vediamo chi si nasconde e chi no. Ok, però ora qua dentro non c'è nessuno. Ander, abbiamo perso. Ander. Ander. Vabbè, ci entrano dentro. Stacco. No, Ander. Non ce l'ho fatta. Righi, riesci a salvare. Fira a parare la palla. Cambiate i brawler, Righi. Che bello, 12 minuti. Oh mio Dio, oh mio Dio, Mr. P. Mr. P abbiamo. Addormentato ce l'abbiamo anche. Mr. P non vale così però. Addio, addio, palla. Non posso mancarci così poco. Vedrà che non è fino. No, è sbagliato. Morite, morite, morite. Morite. Che fa da fare con il punto? Golle. Pequa. Golle. Golle da YouTube anche. Vabbè, eh sì, vabbè. Dopo. Che cafferezza ha fatto quello là? No, veramente. Io lo ammaccio tutti. Ma perché c'è schifo? Allora, a me non piace girare come fanno molti. Perciò vinciamo la partita. No, mi finito il video. Non ho mai finito il video. Non ho mai finito il video. Non ho mai finito il video. Ok, ragazzi. Vi sto caricato a finire il video. Ora stacchiamo, lo pubblichiamo. Ma per te, 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 per te. No, no, dopo, dopo. Perché poi ora si continua. Ne facciamo un altro. Dobbiamo finire un tigetto a me prima di aprirle. Ok, ragazzi. Faremo un altro video. Sì, seconda parte. Però, no, no, seconda parte. Non ci sarà perché io non posso più fare video. No, perché ora lo pubblicho. Cancello quel video. E poi... Eh, va beh. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti. Mi raccomando. Iscriveremo. Noi cosa troveremo se li apriamo. Iscrivetevi. Iscrivetevi del canale. Mieversoft. Iscrivetevi al canale. Condividete il video con tutti i nostri amici. E se volete lasciate like e unitemi al mio club. Lasciate almeno 10 like. Ciao. Iscrivetevi. Lasciate di ci like. Iscrivetevi. Grazie a tutti.